Buonasera, 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 grazie. È sempre un'emozione essere qui a Perugia, è un'emozione tornare nella cornice di questo festival del giornalismo. E quindi grazie ad Arianna, grazie all'organizzazione e grazie ovviamente anche a voi, perché stasera entriamo in quella che è un'inchiesta giornalistica che sto portando avanti dal 2008 ormai, sono dieci anni, ed è un'inchiesta che nasce chiedendosi i segreti delle finanze vaticane. Lo dico per gli amici che vogliono fare i giornalisti che stanno seguendo i vari corsi, no? Sul Vaticano si sapeva tutto del Papa, si sapeva tutto della parte evangelica, ma su quello che era la gestione del denaro, delle nostre offerte, la gestione del potere, non si sapeva nulla. Perché? Perché l'informazione non veniva data e non veniva cercata. E quando su un potere un'informazione non viene né cercata né data, c'è un'assenza. Il primo libro, Vaticano Spa nel 2009, ha rotto un tabù, perché è entrato non in maniera anticlericale, non in maniera col pregiudizio, ma con i dati nel segreto delle finanze vaticane. Stiamo parlando di una chiesa, di uno Stato, Stato-Città del Vaticano, che amministra le offerte che provengono da un miliardo e quattrocento milioni di persone. Quando uscì questo libro, il primo libro, queste offerte erano segrete, non si sapeva come venivano amministrate. I bilanci di tutti i ministeri, chiamiamoli così, che compongono la macchina della chiesa, e quindi lo Stato-Città del Vaticano, quei bilanci erano segreti. Quindi il primo libro è stato un grande successo, seppur la televisione non ne parlava, non ne parlava perché non eravamo abituati a chiedere, per una forma di ossequio e di rispetto, e questo segreto, come tutti i segreti, tutti, i segreti alimentano gli interessi privati rispetto a quelli della comunità. Quindi nell'ombra le mani non si vedono, le mani che rubano non si vedono. Peccato che in Vaticano, ieri come oggi, ci siano sempre dei mercanti che nulla hanno a che vedere con il Vangelo, nulla hanno a che vedere con la parola di Dio, per chi ci crede o non ci creda, ma che se ne approfittano. La faccio breve. Cosa è successo poi? E' successo che ci sono stati, questo è il quarto libro, ed è appunto un'inchiesta che dura da dieci anni, un'inchiesta che ha visto la rinuncia del pontificato di Benedetto XVI nel 2013, e poi è arrivato questo nuovo Papa. Questo nuovo Papa che, attenzione, mediaticamente è incredibile, no? Cioè ha un'empatia fortissima con il grande pubblico, con tutti noi. Ci è simpatico, ci piace. Attraversa Piazza San Pietro, va in un negozio di occhiali e si compra un paio di occhiali. Allora quelli più giovani, uno di noi, è uno di noi, no? È uno di noi, caspita, fa le stesse cose, chiama i fedeli che hanno dei problemi, sono Papa Francesco. Puoi dire chiamare sempre due volte, perché metà delle volte riacganciano perché pensano a uno scherzo. Quindi c'è una grande forza mediatica, una grande forza mediatica. Ma la trasparenza è arrivata? No. La trasparenza purtroppo non c'è. Non c'è. Le riforme annunciate da Papa Francesco nel 2013 sono rimaste lettera morta. Perché? E da qui nasce il progetto che presentiamo stasera. Non capivo, ho detto l'ambasciatore di Parasa, stiamo a Roma, invece siamo a Perugia. Non capivo. Dico, ma... No, perché queste sono le slide usate per la presentazione del libro, evidentemente. C'è un blocco di potere in Vaticano che ostacola le riforme. C'è un blocco di potere che ha tutto interesse che la luce non arrivi. Perché ha tutto interesse a mantenere i giardini, gli orticelli che coltiva, i privilegi, in una gestione opaca delle finanze. Questo gruppo di potere, questo blocco di potere, anestetizza, scusate, anestetizza le riforme di Papa Francesco. Rallenta il cambiamento. Amputa l'opera riformatrice. Quando è arrivato Papa Francesco voleva cambiare gli uomini, voleva fare le riforme, voleva una mentalità nuova in curia. La prima cosa che ha fatto ha sdoppiato la Segreteria di Stato. Ha creato un nuovo ente, un nuovo di Castero, che si chiama Segreteria per l'Economia, che doveva accentrare tutte le competenze economico-finanziarie del Vaticano. Togliere a quella che veniva definita in Vaticano l'italianità, quei cardinali italiani della cordata di Bertone, ricordate quello dell'Attico a Palazzo San Carlo. Cioè togliere a loro le leve del comando, creare la Segreteria per l'Economia. E qui c'è il primo fatto strano di Papa Francesco, perché sapete cosa fa? Mette a capo di questa Segreteria per l'Economia questo cardinal Pell, che è un australiano, che appena si siede davanti al Papa e gli dice guardi, Santità, la ringrazio dell'incarico che mi vuole dare, io però sono sotto inchiesta in Australia, a Sydney, sono accusato di aver coperto dei sacerdoti pedofili. È un'accusa falsa, dice Pell, però è chiaro che c'è procedimento. Il Papa va avanti come un treno. Lo nomina il prefetto della Segreteria per l'Economia, con il risultato, eravamo nel 2014, oggi siamo nel 2018, con il risultato che oggi il cardinal Pell non sta facendo la riforma voluta dal Papa per il semplice fatto che non è in Vaticano, non è in Italia, ma è a Sydney e si sta difendendo dall'accusa di pedofilia. È evidente che quando un leader o un monarca, ovvero il leader religioso e il monarca assoluto, perché lei è una monarchia assoluta, Francesco, nomina come suo principale collaboratore un uomo che è sotto inchiesta per aver coperto delle reati orrendi come la pedofilia, sceglie una persona a suo fianco che ha un vulnus di credibilità che mi pare inutile sottolineare. E infatti la riforma dell'economia è rimasta lì. Durante il papato di Benedetto XVI, c'era il segretario di Stato, l'abbiamo detto Bertone, c'erano, non so, benedico uno, l'Apsa, che è un ente importante all'interno del Vaticano che cura tutti gli investimenti immobiliari, curava immobiliari, c'era, all'epoca lo chiamavano il cardinale Rambo, perché oltre che avere la passione per Gesù aveva un arsenale di armi in casa, i cardinali a volte sono un po' bizzari, se vogliamo, ebbene, il cardinale Rambo, ovvero il cardinale Domenico Calcagno, era all'epoca capo dell'Apsa e oggi è capo dell'Apsa, cioè non c'è stato un grande cambiamento. Il segretario di Stato è il cardinale Parolin, che è persona assolutamente perbene, ma essere onesti in Vaticano non è sufficiente, cioè una condizione indispensabile, ma non sufficiente. bisogna avere leadership. E allora mi sono chiesto, com'è che riescono a bloccare persino Papa Francesco nelle sue riforme, visto che l'unica riforma che ha fatto, non nemmeno concludendola, è quella per, guardate qui siamo a feste del giornalismo, l'unica riforma che ha fatto Papa Francesco è quella della comunicazione. ha creato la prefettura per la comunicazione, capo fino all'altro ieri, poi è stato silurato per un altro motivo, comunque era Monsignor Dario Viganò, e la comunicazione è diventata la locomotiva di questo pontificato. Un pontificato che rispetto, in termini di comunicazione, rispetto al suo predecessore, cioè un grande teologo, un uomo di visione come Ratzinger, Bergoglio è molto più vicino a noi, usa molto di più i social network, usa una comunicazione molto più liquida rispetto al precedente. Ma oltre alla comunicazione, devi avere anche dei contenuti a comunicare, no? E allora qui ovviamente io sto parlando degli aspetti di gestione, non evangelici, poi sulla parte delle prediche, io non parlo perché non è per fortuna la mia competenza. Però la riforma dello Stato non c'è stata. E quindi continuano le zone opache. Perché? Perché arriviamo a peccato originale, c'è un gruppo di potere che da Paolo VI, dagli anni 70, pensate, del secolo scorso, ha costituito una piattaforma di illegalità che è riuscita a entrare in interrelazione con i pontifici ed è riuscita come una piovra a strozzare qualsiasi cambiamento. Tant'è che Benedetto XVI nel 2013 ha rinunciato al suo pontificato e l'ha fatto per favorire la sua chiesa. E l'ha fatto e ha fatto questo gesto che, perdonate, io non so indicare il gesto più rivoluzionario di questo. Cosa c'è di più rivoluzionario che rinunciare al pontificato? Facendo un passo indietro perché la chiesa faccia un passo avanti. Perché non è un momento per la chiesa, non è un momento non è un momento normale e questo per Ratzinger era un motivo di dolore e di preoccupazione. Diminuiscono le offerte, diminuiscono il numero di fedeli, diminuiscono le vocazioni, tant'è che lo stesso Benedetto XVI diceva che era la fede in crisi, non la chiesa, la fede. E lui si è scontrato, Benedetto XVI, con questo blocco di potere dove cambiano gli uomini ma le dinamiche anche violente sono sempre le stesse. Dicevo che questo vediamo se riusciamo a far partire questo gruppo di potere nasce agli inizi degli anni 70 quando questo signore Monsignor Donato De Bonis apre questo conto corrente allo IOR Opus Caritatis che è un conto corrente che è il primo, uno dei primi conti correnti di questa che sarà una galassia di conti correnti attenzione intestati a fondazioni benefiche inesistenti. Saranno decine e decine di questi conti che con dei nomi di fondazioni benefiche inesistenti sono costituiti per proteggere l'identità dei correntisti. Fondazione Lotta alla Leucemia inesistente Fondazione Aiuto aiuto bambini poveri inesistente Fondazione Madonna di Lourdes inesistente persino questa fantomatica che ne scrivetti ormai dieci anni fa Fondazione Cardinal Francis Spellman che copriva un importante politico che non doveva essere coinvolto nell'indagine anticorruzione di Mani Pulite dagli anni 90 che nelle carteggi riservati dal Vaticano veniva indicato questo politico con il nome geniale di Omissis che copriva il sempre rimpianto Giulio Andreotti Giulio Andreotti aveva il conto lo Iore intestato questa fondazione inesistente Spellman su questo conto sono transati importanti denari della Maxi Tangente Enimont e dato che all'epoca l'onorevole Andreotti era candidato alla presidenza della Repubblica doveva salire al colle in quegli anni il Vaticano doveva proteggerlo perché era evidentemente un ottimo player da avere al culinale tant'è che il Vaticano e sono responsabile e consapevole di quello che dico fece di tutto per evitare che Mani Pulite incapasse intercettasse quel segmento di tangente che era finito sul conto di Andreotti che questo avrebbe affondato questo candidato poi ci sono state le stragi Falcone Borsellino insomma poi la storia è andata in maniera diversa e magari per fortuna o per sfortuna Andreotti non è diventato presidente della Repubblica perché era lì e questo è il primo conto che viene aperto quindi siamo già nel 1972 e questi conti incominciano a eccoli qua li vedete Agnes Biagio Agnes Leucemia Santa Caterina San Martino Spelman Fondazione Giglio L'Oretto Santa Casa Sandino Sepe Sua Santità 11746 vedete sul lato sinistro 11595 Mons Stan che vuol dire Monsignor Stanislao che è il nome di Monsignor Stanislao Dvicic che era il segretario particolare di Giovanni Paolo II questo gruppo questo gruppo di potere ovvero De Bonis Marcinicus e gli altri gestiscono allo Ior anche i conti personali di persone che sono ai livelli apicali della Chiesa quindi non solo i vari Andreotti i vari Biagio Agnes c'era c'era ah è sempre eterno Luigi Bisignani ovviamente che aveva il conto articolazione di personaggi di variate come dire legalità e illegalità o affari interessi tra questi conti aperto nel 1970 e qui la cosa che comincia a farsi ancora più particolare e interessante c'è il conto 5131303 intestato Monsignor Pasquale Macchi che Monsignor Pasquale Macchi era il segretario particolare di Paolo VI il predecessore di Giovanni Paolo I e Marcinicus Monsignor De Bonis questo gruppo di potere gestiva anche il conto di personale di Monsignor Pasquale Macchi Monsignor Pasquale Macchi è interessante questo è il saldo del suo libretto andiamo avanti liquidazione interessi sono tutti che poi trovate anche aspettate eccolo qua allora nella parte sotto in basso non so se lo oggete però in buona sostanza Monsignor Pasquale Macchi aveva sul suo conto corrente un saldo di quelle che oggi sarebbero circa 8 milioni di euro Monsignor Pasquale Macchi era il segretario particolare di Papa Montini ancora prima che diventasse Papa quando era arcivescovo di Milano Monsignor Pasquale Macchi è quello che fa entrare nella grande famiglia finanziaria del Vaticano un ingegnere siciliano di Patti che si chiama Michele Sindona Michele Sindona ha una passione per l'arte come Monsignor Pasquale Macchi e Michele Sindona poi praticamente colonizzerà lo IOR con conti intestati a una serie infinita di suoi amici è una regnatela di potere che a noi non ci hanno mai raccontato ci hanno parlato di quel cattivone di Marcinicus presidente dello IOR che era alcuni dicevano che come dire che si era era finito lì per sbaglio no? ma voi sapete chi era Marcinicus vi dico in un minuto perché le cose da raccontare sarebbero tantissime Marcinicus nasce nel 1922 a Cicero siamo negli Stati Uniti siamo alle porte di Chicago Cicero in quegli anni è il quartiere generale di un signore mafioso che si chiama Al Capone Marcinicus è di origine lituane il papà di Marcinicus è uno degli autisti di Al Capone poi diventa prete arriva in segreteria di stato a Roma e ha una carriera fulminante e arriva il vertice dello IOR fa asse con quel De Bonis che sta costituendo tutti quei conti che vi ho detto prima è lì che nasce questo blocco di potere potete dirmi ma Gianluigi ma tu ci stai raccontando cose vecchie Marcinicus adesso c'è Papa Francesco ma siete così sicuri che siano cose vecchie? siamo così sicuri? lo IOR è diventato una banca trasparente? ma vi dirò di più quando arriva Papa Francesco nel 2013 quindi permettetemi rispetto a queste storie è ieri l'altro il 3 luglio del 2013 convoca tutti i cardinali che si occupano degli investimenti dei denari li convoca c'è una riunione tesissima e dice state attenti agli investimenti a come noi investiamo i soldi perché abbiamo perso 30 milioni di euro in 6 mesi in investimenti immobiliari io ho letto e reso conto di questo incontro riservato e ho detto ma chi è che si occupava di questi investimenti immobiliari in Vaticano? chi è quello che ha fatto perdere così tanti soldi? soldi nostri poi delle offerte perché lì non ci sono tasse tutti i soldi sono soldi di offerte lasciti, eredità piccole offerte cioè dal dollaro che lascia il povero in Sud America per i beni della Chiesa che toglie da mangiare e dà un dollaro a il lascito ereditario questo fiume di denaro arriva in Vaticano come viene gestito? boh chi lo chiede? nessuno trasparenza? ma a volte allora chi gestisce questi investimenti mobiliari allora sono andato a vedere 2013 e c'era un signore che sapete come si chiamava? si chiamava Paolo Mennini io mi son detto Paolo Mennini Paolo Mennini ma chi è questo Paolo Mennini che si occupa degli investimenti immobiliari per il Vaticano? scusate se mi ripeto ma per farvi capire i passaggi poi mi è venuto in mente che negli anni di Pasquale Macchi di Marcinicus i giudici di Milano chiesero l'arresto per Marcinicus e per i suoi due collaboratori principali in Vaticano che si chiamavano uno Destrobel e l'altro Mennini papà cioè il figlio del braccio destro di Marcinicus gestiva fino all'arrivo di Papa Francesco gli investimenti immobiliari del Vaticano per centinaia e decine di milioni di euro è una coincidenza? cioè con tutte le persone che sono esperte di denaro hanno scelto il figlio del braccio destro di Marcinicus perché le situazioni cambiano solo apparentemente vi faccio un altro esempio brevissimo Papa Francesco si affaccia a Bemus Papam no? tutti noi siamo lì con gli occhi sgranati per vedere la faccia del nuovo Papa arriva questo Papa che non ha orpelli che ha un volto simpatico di grande comunicazione pregate per me che vengo dalla periferia del mondo dice un Papa che dice voi dovete pregare per me non io per voi noi rimaniamo a bocca aperta e io guardo il balcone vedo Papa Francesco guardo la sua sinistra c'è un cardinale che sembra che abbia vinto il totocalcio con questa nomina che sorride fa proprio questa espressione è più brutto di me che ce ne vuole si chiama Tarcisio Bertone quello dell'attico come dicevamo pensate che Papa Francesco nei primi mesi di pontificato che aveva come segretario di Stato Bertone non lo nominava mai con nome e cognome non diceva mai il segretario di Stato nelle riunioni io ho testimoni oculari diceva quello là cioè per lui Bertone era quello là ma è interessante pensare vedere chi c'era lo potete vedere su Youtube alla destra del Papa nuovo secondo a fila anche lì c'è un monsignore che sorride e io dico ancora lì poi vado a vedermi quando era stato eletto Ratzinger lo stesso monsignore è lì attenzione monsignor Francesco Camaldo monsignor Francesco Camaldo di giorno perché di notte si fa chiamare monsignor Jessica e attenzione non è come dire guaglierismo come possiamo dire pettegolezzo ognuno può avere la sessualità che vuole non so qua io sono un grande peccatore potete immaginare se sono qui a fare il censore della sessualità degli altri peccato però che lì in quello stato c'è il voto di Cassità peccato che lì in quello stato l'omosessualità è bandita peccato che in quello stato nel momento in cui tu sei ti fai chiamare Jessica di notte e hai un ruolo così esposto che sei addirittura a fianco al Papa beh insomma deve essere proprio insospettato insospettabile peccato che Camaldo Francesco Camaldo è il tipico esempio per raccontare il Vaticano visto che compare come un prezzemolo in tantissime inchieste lo scandalo propaganda fide in mille inchieste è stato anche sentito spesso come testimone peccato che lo ritroviamo in tante storie poco chiare del Vaticano iniziare da quella della povera Emanuele Orlandi vi ricordate la figlia di quel messo del Pontificio sparita finita la lezione di musica nella Basilica di Santa Pollinare a Roma poi sono andati a vedere sotto la Basilica nella cripta hanno trovato sepolto lì Renatino De Pedis uno degli esponenti di spicco della banda ramagliana presunto perché è morto incensurato perché l'hanno ammazzato da giovane nei vicoli di Roma e chi è che aveva dato l'autorizzazione per seppellire Renatino De Pedis in mezzo ai santi ai monsignori ai viscovi ai cardinali ai musicisti di chiesa a uomini di chiesa in deroga a tutte le norme del diritto canonico l'allora cardinale vicario di Roma e cardinal Poletti e chi era il segretario del cardinal Poletti monsignor Jessica all'epoca e monsignor Jessica Franco Papa Francesco questo per dirvi che certi mondi non non tramontano credo che verrà Gratteri qui se non sbaglio tra qualche giorno Nicola Gratteri magistrato calabrese ve lo può spiegare meglio di chiunque altro di come la criminalità organizzata quando entra in un mondo non è che se poi tu non hai più bisogno stringi la mano loro se ne vanno e allo IOR la mafia è entrata e non lo dico io lo dicono le sentenze per l'omicidio di Roberto Calvi tanto per dire le prime dove tu voi leggete nero su bianco che i magistrati scrivono come lo IOR abbia riciclato i soldi della mafia perché c'era questo blocco di potere che aveva delle dimensioni più ampie di quelle che si possono immaginare e che si va a costituire in questo periodo non si capisce perché Macchia abbia un saldo così ingente 9 milioni 8 milioni 9 milioni di euro sul suo conto l'assistente del Papa vedete queste sono tutte operazioni in dollari ah ecco questo è ancora interessante perché poi ci sono troverete nel libro siamo sempre quegli anni a metà degli anni 70 trovate dei bonifici a favore di Paolo VI che fanno riferimento eccolo qui il 23 marzo arriva un assegno per una modesta somma 50 mila dollari è messo l'ordine Paolo VI per erogazione in relazione esercizio 73 e in basso nel documento si riporta il relativo a debito sul conto tal di tal intestato Cisalpina found che potrebbe fare riferimento alla banca panamense Cisalpina nel cui CDA siederanno Marcinicus Calvi e Licio Gelli cioè si fa riferimento a questa banca di Panama dove siederanno queste persone ma questa banca è particolarmente importante perché la Cisalpina Bank Overseas Bank di Panama è una banca che entra nella storia dei narcodollari io per scrivere questo libro sono stato in Sud America dove ve ne dico una che trovate nel libro dove ho incontrato la signora Suarez Levi che è la vedova di Roberto Suarez Gomez che gli americani in quegli anni hanno fatto anche un film sinteticamente chiamavano The King The King of Cocaine quando hanno restato Suarez Gomez gli hanno sequestrato 56 aeroplani con i quali lui faceva portare la cocaina negli Stati Uniti d'America Suarez Gomez era uno che in quegli anni in Sud America faceva i colpi di Stato aveva Klaus Barbie come suo uomo della polizia segreta l'ex boia l'ex nazista il boia di Lione e io incontro la moglie e la vedova e lei mi racconta questa storia mi dice che praticamente in buona sostanza il marito aveva un socio e amico in Europa che si chiamava Roberto Calvi quindi l'uomo del Banco Ambrosiano l'uomo trovato privo di vita sotto il ponte dei Fratineri a Londra e mi racconta che sei mesi prima di essere appunto trovato ucciso Calvi era molto preoccupato perché i colombiani il cartello di Medellin voleva rientrare dei soldi che avevano depositato alla Cisalpin Overseas Bank di Panama e questo aveva messo fortemente in preoccupazione Calvi perché il dissesto era ormai alle porte e questo Cisalpin lo ritroviamo con questo assegno emesso all'ordine di sua santità Paolo VI e questo perché il sistema di Marcinicus era molto tentacolare tant'è vedete qui per esempio ci sono delle operazioni fatte in oro e in Palladio speculazioni Palladio è un metallo è una lega di oro bianco e oro giallo fatto a favore dei vari cardinali perché tu i cardinali come che te li tieni in tasca in modo efficace se non favorendo i loro investimenti non proprio diciamo non dico legittimi ma comprensibili cioè che un cardinale passi il tempo a investire in oro e Palladio tu pensi che passi il tempo a fare altro no? almeno si spera vedete queste sono altre operazioni e poi ci sono conti di altri personaggi perché anche attori come l'intramontabile Edoardo De Filippo aveva il suo conto corrente allo Ior e qui c'è un bonifico tramite la che arriva dalla Middle Bank di Londra a suo favore non che questo costituisse nello specifico un fatto illegale o illegittimo però dalla misura delle relazioni che questo gruppo di potere poteva vantare vabbè questa è la contabile queste sono operazioni per miliardi di lire sull'Opus Pauli questo Stefano Falez è un uomo di Sindona queste sono tutte operazioni tramite il Santo Spirito di Lussemburgo verso il Cardinal Guerri con operazioni di sull'oro queste sono a favore di Menini stesso il papà e qui troverai ecco queste sono altre operazioni sull'oro con diversi beneficiari vabbè qui sono tutte operazioni ma quello che è interessante è vedere come questo gruppo di potere poi ha fatto dello Ioro una banca opaca negli anni 90 con il riciclaggio delle tangenti della Prima Repubblica negli anni 2000 quando si sono stati i tentativi di rendere trasparente lo Ior che sono falliti prova ne è che quando si è dimesso papà Benedetto XVI poco prima di dimettersi aveva nominato lo Ior un aristocratico tedesco Von Freiberg quindi siamo agli inizi del 2013 e viene eletto Papa Francesco Papa Francesco incontra Von Freiberg e Von Freiberg gli dice che all'Oiora hanno ancora molti casi di riciclaggio di denaro sporco e siamo ormai a metà del 2013 e quindi questo è un filo che poi nel libro io mi spingo anche nei giorni nostri perché poi c'è la c'è la presidenza di Gotti tedeschi che viene silurato viene trattato all'Oior perché lui deve mettere le norme anti-reciclaggio viene trattato come un delinquente isolato delegittimato e defenestrato e poi l'altro filo importante in peccato originale è sicuramente il filo del sangue questo blocco di potere vede la sua forza intrecciando tre fili il filo del sesso il filo del sangue è il filo dei soldi e la storia di Manuele Orlandi è sicuramente una storia emblematica uno perché è una storia che si è voluta che rimanesse irrisolta è una storia dove i depistaggi e le manomissioni investigative sono state reiterate vergognosamente pur di allontanare la verità dallo spettro visivo di chi indagava vedete l'ultima frase di questa telefonata questa telefonata è una telefonata siamo nel 2012 l'inchiesta sulla scomparsa di Emanuele Orlandi ha ripreso vigore la procura di Roma ha messo sotto controllo dei telefoni di persone che forse potevano sapere la verità sulla fine di questa ragazza tra i telefoni sotto controllo c'è anche quello di Don Piero Vergari che era il rettore della basilica di Santa Polinare che ha visto per l'ultima volta la presenza di Emanuele Orlandi in vita e quindi mettono sotto controllo il telefono di Don Vergari non l'avessero mai fatto a parte la quantità di telefonate a sfondo erotico che Don Vergari fa con chiunque con giovani novizi dalle frasi equivoche e vabbè ma queste saranno affari suoi ma è interessante perché a un certo punto lui riceve una telefonata dal Vaticano di una non meglio precisata eccellenza e quindi si pensa un altro prelato e questo altro prelato dopo avergli detto due parole dice guardi che il suo telefono è sotto controllo e quindi lo avvisa che il telefono è sotto controllo quindi lo invita a non parlare al telefono evidentemente e com'è che questa eccellenza reverendissima sapeva che il telefono del sacerdote del caso Orlandi indagato per la scomparsa all'epoca era indagato Don Vergari Monsignor Vergari com'è che sapeva che c'era il telefono sotto controllo sono stati verificate è stata verificata questa responsabilità penale perché questo è favoreggiamento se c'è una persona sotto inchiesta e tu gli dici che il telefono sotto controllo è un reato cioè anche si scappa la manomissione nell'inchiesta Orlandi è stata costante questo è un caso ma ve ne potrei fare di altri dieci quando la Sabrina Minardi che è una delle donne della banda della Magliana compagna di esponenti di spicco inizia a parlare a verbale e incomincia a raccontare i collegamenti a suo dire che avrebbero portato all'omicidio di Emanuele Orlandi nella banda della Magliana una manina magica fa arrivare questi verbali segretati a noi giornalisti noi facciamo il nostro mestiere essendo una notizia la pubblichiamo il risultato è che la Minardi si prende paura e abbassa la sala cinesca e non parla più nei giorni successivi alla scomparsa di Emanuele Orlandi venne fatta ricapitare venne fatta trovare un'audiocassetta vi ricordate una volta si usava un'audiocassetta un nastro e in questa telefonata di rivindicazione i presunti rapitori di Emanuele Orlandi dicevano andate a prendere questa cassetta lì c'è la voce di Emanuele quindi voi dovete parlare con noi per aprire una trattativa e liberarla la polizia andò gli investigatori andarono presero questa cassetta la ascoltarono e archiviano questa cassetta ritenendo le voci non quelle di Emanuele ma una registrazione di un film pornografico cioè non è uno dei lamenti di dolore ma è uno delle urla di piacere che non è esattamente la stessa cosa a distanza a distanza di vent'anni questo magistrato che fece queste intercettazioni che aprì riaprì l'inchiesta Giancarlo Capaldo ha fatto sentire questo audio questa voce l'ha fatta sentire ai familiari chi meglio di altri può riconoscere la voce se no uno che è un familiare e infatti i familiari puntualmente ha detto no no non è un'attrice porno questa è la nostra congiunta però è evidente che tu archiviando quella cassetta come un film porno chiudevi il corridoio che si poteva aprire di dialogo con i rapitori c'è sempre stata in questa storia una monomissione dicevo pensate a tutte le volte scusate se dico una parolaccia ma pensate a tutte le volte che Ali Achka l'attentatore di Uetila ha detto ha sparato una cazzata su dove era la Orlandi che una volta era in Turchia una volta era in un ospedale era inchiuso in un manicomio e fregandosene bellamente di quella che era di quella che era la speranza perché dei genitori dei familiari di Emanuele Orlandi pensate l'illusione che tu dai a una madre che dice no no ma sua figlia è viva in un manicomio in Turchia dove in che indirizzo chi te l'ha detto cosa sai di più nulla su questa storia si sono affacciati una serie infinita di mintomani di depistatori e alcuni sicuramente dettati da un desiderio dei vanesi dei megalomani degli egocentrici ma c'è anche chi ha agito a mio avviso perché l'inchiesta andasse a imboccare delle strade false rimanesse aperta in modo tale che chi poteva possedere e possiede la verità su Emanuele Orlandi poteva continuare a esercitare pressioni e ricatto all'interno delle sacre mura perché evidentemente nel momento in cui tu sai la verità hai tutto interesse che ci sia una pressione della magistratura che l'inchiesta rimanga aperta per acquisire un potere illegittimo siete d'accordo su questo? E infatti questo è il filo del sangue questo blocco di potere si alimenta anche così prova ne è che un anno prima che Benedetto un anno e mezzo prima che Benedetto XVI rinunciasse al pontificato con questo gesto clamoroso il Vaticano avvia qualcosa che non ha precedenti nella storia dei rapporti tra Italia e Vaticano per quanto se ne possa avere conoscenza cioè avvia una trattativa segreta con l'allora procuratore aggiunto Capaldo per chiudere l'inchiesta cioè ci sono dei monsignori del Vaticano che incontrano il magistrato titolare dell'inchiesta sull'omicidio di Emanuele Orlandi e da una parte i monsignori chiedono che venga traslata la salma di Renatino De Pedis della cripta per chiudere evidentemente una pagina che mi dava imbarazzo quel corpo di quel malavitoso sepolto sotto Santa Pollinare dall'altra parte quindi di chiudere l'indagine e in cambio avrebbero dato indicazioni su come il su dove era sepolta la povera Emanuela questa è una trattativa alla quale io dedico più di un capitolo del mio libro raccontando gli incontri i luoghi gli oggetti è una trattativa alla quale hanno partecipato evidentemente Capaldo dei monsignori ufficiali dell'arma dei carabinieri e all'uscita del libro sono andati a chiedere a Capaldo beh Capaldo Nuzzi ha scritto delle balle o no e lui ha detto non confermo e non smentisco che tradotto in italiano cosa vuol dire? ditemelo voi non vi arrestano se lo dite non confermo e non smentisco è come nel Watergate quando c'è stato quel film c'è la telefonata e dice se lei tace una conferma conto fino a tre uno due tre silenzio grazie arrivederci c'è sempre stato nel nostro paese l'utilizzo di un'arma impropria come quella della trattativa c'è stata la trattativa tra Stato e mafia c'è un processo in corso c'è stata la trattativa con i terroristi palestinesi c'è stata la trattativa per il rilascio dei nostri italiani rapiti in zone di crisi c'è stata la trattativa con l'andrangheta quando c'è stata la stagia di Duisburg per evitare che i votari e i pelle e gli altri e gli strangio si riaprissero dei contenziosi chiamiamoli così delle guerre di mafia con centinaia di morti la trattativa è sempre declinata in sottoscala del potere italiano e anche evidentemente in quello del Vaticano peccato che cosa è accaduto che si è avviata questa trattativa sulla vicenda e poi è arrivato il procuratore capo nuovo di Roma Pignatone che ha fatto le sue determinazioni e cioè ha archiviato l'inchiesta su Emanuele Orlandi ha disposto l'immediata traslazione della salma di De Pedis da Santa Polinare al Verano che è un cimitero di Roma e ciao ciao amico amico Capaldo si era opposto Capaldo voleva fare degli ultimi atti istruttori e chiedere poi il rinvio a giudizio di alcuni imputati il suo capo Pignatone ha messo la cera a lacca e l'inchiesta su Emanuele Orlandi come quella su Roberto Calvi come tante altre inchieste saranno prive della verità per noi italiani non sapremo mai cosa è realmente accaduto vediamo un attimo ecco questa è la lettera riservata in cui il procuratore Capaldo chiedeva a Pignatone di non disporre l'archiviazione del fascicolo Emanuele Orlandi tutti questi documenti li ritrovate poi nell'appendice del libro perché nei miei libri io amo mettere in fondo sempre una parte dei documenti che ho trovato in modo tale che voi possiate avere un accesso diretto ai documenti che hanno costituito la spina dorsale di questo libro e l'altro capitolo l'altro filo di peccato originale di forza è quello del sesso c'è tutta la storia di Papa Luciani nel libro che adesso non tiro fuori i suoi incontri con Marcini comunque arriviamo al sesso il sesso perché è un elemento di criticità all'interno dello stato città del Vaticano perché c'è il voto di castità e poi c'è un altro problema che se un sacerdote si innamora di una donna o di un uomo non è che la chiesa lo aiuta a lasciare la chiesa questo sacerdote si trova in un bivio o vive in una relazione segreta fittiziamente segreta perché poi in paese si sanno le cose oppure o vivere segretamente questa relazione oppure lasciare la chiesa lasciare il sacerdozio andando a proporsi a fare che lavoro scusate tu come ex sacerdote che lavoro trovi io ho un amico che era sacerdote dell'Opus Dei lui si innamora a un certo punto lui incontra una donna una donna di colore che era venuta dall'Africa a cercare in Italia suo marito e il figlio un figlio malato un figlio con dei problemi importanti e quindi questo sacerdote aiuta la donna a cercarlo vanno negli ospedali e nasce una storia d'amore cioè lui si innamora di questa donna mi racconta che poi lui è andato dai suoi superiori dell'Opera dell'Opus Dei raccontando questo fatto che era in crisi si chiama una crisi di discernimento vocazionale che tu devi capire se è ancora la fede e lui si voleva confrontare con i suoi superiori per trovare un conforto un indirizzo un aiuto i suoi superiori sapete cosa gli ha detto ha detto scusa ma quanto vuole questa donna per tornare in Africa quanto vuole e lui è stato finito in un pozzo nero perché una frase di questo tipo una domanda di questo tipo l'ha completamente sconvolto perché lei non voleva niente era l'amore che bussava alle loro porte ha lasciato la chiesa è andato a fare il lavoro che faceva prima di avere il suo percorso religioso cioè fa l'odonto tecnico vive con questa donna questa donna nel frattempo si è separata e ha adottato questo bambino malato problemi fisici strutturali e questa è una storia d'amore finita bene ma è una delle poche perché il sesso si vive in maniera difficoltosa io non mi sono mai occupato del sesso non ho mai scritto di sesso pur avendo scritto parecchi libri sul Vaticano l'ho sempre lasciato perché lo vedevo disgiunto sbagliando disgiunto dal potere e invece è una una leva del potere all'interno delle mura proprio perché è un segreto abbiamo iniziato con i segreti stasera e qui arriviamo ancora un altro segreto all'interno del Vaticano c'è un lo chiamano pre-seminario San Pio X è un luogo magico Palazzo San Carlo a un piano ci sono delle stanzette dove dei ragazzini delle medie e dei primi anni di liceo vanno lì dormono in questo pre-seminario in queste stanzette frequentano magari una scuola parificata e vanno lì per capire appunto se hanno la vocazione sono giovani i bambini i ragazzini e hanno la fortuna tra l'altro in questo periodo di servire messa di fare i chirichetti nella basilica di San Pietro e quindi capita a questi ragazzini di servire anche il Santo Padre di averlo sull'altare lì nella basilica di San Pietro e lo devono capire se hanno la vocazione questo ragazzo Camille polacco era uno di questi ragazzini che a un certo punto si è stufato di vedere arrivare nella sua stanzetta due lettini un adulto che si faceva fare dei servizi dal compagno di stanza è andato a dirlo al cardinale è andato a dirlo al monsignore ha scritto una lettera il risultato l'hanno cacciato hanno cacciato lui allora io ho approfondito questa storia ho detto magari è un mitomane magari è un complotto peccato che ho trovato la presunta vittima che conferma tutto ho trovato i messaggi tra Camille e la presunta vittima nei mesi antecedenti negli anni dove gli diceva Camille vai avanti tu perché io non ho la forza peccato che ho iniziato a indagare su questa storia e ho trovato altre vittime ho trovato uno un ragazzo perché di questo stiamo parlando che ancora oggi si fa 15-16 docce al giorno perché queste persone abusate si sentono sporche si sentono in colpa queste persone abusate ritengono di essere loro la causa di tutto cioè la vittima ritiene di avere provocato il carnefice e attenzione qui non siamo in una situazione di abuso per quanto terrificante che sia siamo c'è un aggravante devastante perché l'abusato cioè l'abusante l'orco il carnefice è la persona che tu ritieni che ti dia la mano e ti faccia capire se tu hai la vocazione per entrare nella vigna del Signore cioè questo è il problema c'è una violazione del corpo e della fiducia cioè tu sei in un momento nella tua vita che stai cercando di capire lasciate stare se avete o meno la fede cerchiamo di mendesimarci di una persona che dice io ho la fede forse voglio diventare sacerdote mi fanno servire messa nella basilica vedo il Papa che magari mi dona di uno sguardo a un metro da me arrivo da una realtà magari semplice sono proiettato in questo mondo e il Monsignore abusa di me quel Monsignore che mi dovrebbe far capire se sono io su questa cosa perdonatemi sono un po' incazzato perché poi arrivano a me i messaggi dove mi dicono che questi tentano di suicidarsi e c'è un Vaticano che dice no ma noi stiamo facendo l'indagine su queste cose le indagini devono essere precise senza sconti trasparenti e rapide e invece noi non sappiamo niente non ci dicono niente e mi mi duole dirlo però è la verità che rispetto a quel rivoluzionario di Benedetto XVI che all'improvviso dice che a un certo punto nella storia della Chiesa ha detto noi dobbiamo riconoscere i tribunali civili le vittime della pedofilia vanno risarciti tant'è che vennero aperti numerosi contenziosi lo ricorderete negli Stati Uniti ci furono delle diocesi che andarono anche in default in fallimento per la quantità di denaro che dovevano essere erogati alle vittime questo Papa ha aperto una commissione contro la pedofilia ha chiamato alcune vittime della pedofilia a partecipare ai lavori il primo consiglio ha perso metà dei suoi appartenenti perché queste vittime dopo un po' di mesi che erano lì come faceva Totò appesi hanno capito che non serviva niente questa commissione ma hanno ragione non serviva nulla la commissione le sanno già le cose andassero a prendere i fascicoli a fare gli approfondimenti che cosa serve la commissione ma ci stiamo prendendo in giro la commissione ma di che? adesso hanno fatto una nuova commissione con i nuovi consiglieri altre vittime però hanno detto però i consiglieri i membri dei consiglieri sono segreti eccolo ancora qua la segretezza è il cancro di tutto un paese può avere degli atti riservati delle attività riservate è normale ma segreti no perché vuol dire che è un'altra cosa tant'è che io quando ho fatto il libro via crucis e sono stato processato lo ricorderete magari qualcuno di voi ero accusato di avere pubblicato notizie che mettevano a repentaglio la segreti pubblicato segreti che mettevano a repentaglio la costituzione l'integrità dello stato città del vaticano e mi sono detto ma com'è possibile che vengo accusato di questo quando io ho pubblicato solo storie di ladroni quindi la vita dei ladroni i loro affari sono l'integrità dello stato del vaticano non ci siamo cioè avevano equiparato quello che abbiamo fatto Fettipaldi e Dio con i nostri libri nel 2015 a la violazione del segreto di stato poi ci hanno prosciolto ma questo era adesso su queste denunce è uscito il libro a novembre con la con la testimonianza di Camil io ho trovato altre storie le Iene magari qualcuno di voi ha visto i servizi del buon Gaetano Pecoraro delle Iene ha trovato altre vittime la reazione è stata una reazione perdonatemi oscurantista perché la reazione è stata quella di cercare di delegittimare le vittime di delegittimare i testimoni di non accettare invece che come in un paese normale vengano fatti degli accertamenti e venga verificata la verità io non so se Camil dice il vero io dico in quella stanzetta erano tre persone la vittima presunta il presunto carmefice e il presunto testimone qui abbiamo la presunta vittima è presunto testimone che dicono la stessa cosa strano poi vai esce il libro e esce un'altra persona che dice anch'io ho ricevuto un analogo trattamento poi ne esce un altro ancora poi ne esce uno che dice io guardate ho avuto la stessa storia uguale fotocopia solo vent'anni prima sempre lì beh c'è da fare chiarezza o vogliamo nominare Pell il cardinal Pell nostro numero uno delle affari economici quando è indagato è sotto processo per pedofilia in Australia cioè queste cose impigano una riflessione questa è la risposta della congregazione per la dottrina delle fede alle prime denunce di questo di Camille non riesco a pronunciare questo cognome polacco egregio signore è pervenuta a questa congregazione la sua lettera con la quale ella denuncia il compimento di atti immorali ce l'ha vabbè non commento all'interno del preseminario dalle detali ad un'attenta lettura della predetta messia non sono emersi i fatti delittuosi rientrandi nell'ambito dei delitti riservati a questo di Castero pertanto si è provveduto a trasmettere per competenza la predetta documentazione alla congregazione per il clero al tribunale alla procura che è la congregazione le assicuro inoltre che questo di Castero quanto prima provvederà a informare in merito il santo padre nel significarle quanto sopra approfitto saluti baci siamo nel 2014 fanno due controlli formali e archiviano tutto dicendo che questo ragazzo polacco era vendicativo allora sia le Iene che il sottoscritto che abbiamo lavorato separatamente anche in momenti diversi cioè abbiamo trovato tanti di quei testimoni e altre vittime ma senza fare nessuna fatica cioè bastava andare lì e aprire la porta su questa storia non solo le Iene per esempio hanno trovato un sacerdote che ha detto che lui ha chiuso il primo procedimento perché gli avevano chiesto i suoi superiori di insabbiare in buona sostanza e quello si fa 17 docce al giorno e mi manda un messaggio mi dice magari mi lantava magari aveva bisogno di attenzione dicendo non sono riuscito a suicidarmi ecco ciao Camille tutto bene ho ricevuto e letto ti ringrazio per aver dato questa è la vittima quando vi parlavo dei messaggi whatsapp prima no? ti ringrazio per aver dato voce ad una situazione per la quale io non ho forza di parlarne la ciliegina sulla torta è che lui cioè il carnefice sabato diventa prete e che diventerà vice lettore del preseminario ah sì perché poi questa qui è un'abitudine che hanno ovvero che pensano che gli abusi sessuali la pedofilia sia come il cibo a chilometro zero cioè tu quanti abusi hai fatto? tre chilometri tre abusi bene allora ti trasferisco di tre chilometri in un'altra parrocchia come se questa sia la cura nei confronti di questi soggetti che poi è come la volpe cioè prendono la volpe la spostano e lo mettono in un altro pollaio perché lo mettono in un altro oratorio e questo ragazzi cosa volete che faccio? vi ricordate guardate non so se qualcuno di voi ricorda uno scandalo che era accaduto un paio di anni fa e che c'era anche qui una storia di abusi all'interno ve lo ricordate a Verona di quell'istituto per bambini sordomuti vi ricordate questa storia che se ne ha parlato tanto in Italia e risultato che il presunto responsabile non è successo niente cioè non ha fatto un giorno di carcere nulla una vergogna ma l'onta cos'è? adesso vi racconto sono andato a Salisburgo insomma sono andato a questa televisione francese franco tedesca che si chiama Arte che è una tv di cultura di approfondimento fatta molto bene sono andato lì perché mi intervistavano in diretta in studio dopo aver visto un documentario sul Vaticano questo era il motivo dell'invito allora io mi sono seduto ho visto questo documentario e questo documentario a un certo punto arriva le telecamere vanno in Sud America perché c'è una storia di abusi una storia di abusi su bambini sordomuti una storia di abusi su bambini sordomuti nell'istituto lo stesso di Verona la filiale in Sud America e arrestano il sacerdote lo stesso sacerdote che in Italia era finito sui giornali per aver abusato di questi bambini lui era scappato se ne era andato in Sud America e aveva continuato a fare esattamente le stesse cose in un istituto uguale lo stesso nome in Sud America solo che lì lo hanno arrestato e allora dire che un italiano dica che in Sud America la polizia e la magistratura si lavori meglio che in Italia a me fa venire un po' a pelle d'oca eh cioè noi dobbiamo aspettare la polizia sudamericana per capire come vanno le cose non poteva essere fermato prima questo signore guardate che chi subisce degli abusi poi è un argastolano senza per tutta la vita non si esce dagli abusi non si esce non si esce è un pozzo senza fine non riesci più a emergere non hai più la forza non hai più la grinta non hai più la determinazione non hai più la voglia di fare sprofondi o ti trasformi anche tu in carnefice come a volte succede e reiteri quello che hai patito questi sono i tre fili rossi eh di peccato originale di questo gruppo di potere ed è un gruppo di potere che ripeto ostacola fortemente il cambiamento adesso abbiamo altre 247 slide se volete fare delle domande io non so quanto tempo ho ancora quanto tempo abbiamo un paio di domande ci stiamo no perché qui sono so che siete molto svizzeri c'è qualche domanda volevo capire in questo stato la magistratura in questo contesto la magistratura italiana non ha potere eh dipende perché dipende dove vengono compiuti i reati per esempio c'è la magistratura vaticana ci sono i processi in vaticano io ho i processi che sono stati fatti di recente ne ho visti due fatti a seguito di notizie pubblicate sui libri cioè il processo grazie al maggiordomo Paolo Gabriele è il processo anche che ho subito per via crucis altri processi si contano sulle dita di una mano non di più la magistratura italiana agisce lei sta facendo riferimento a queste storie la magistratura italiana agisce ma non non c'è spotlight l'avete visto il film qualcuno di voi cioè non c'è il l'investigazione che cerca di capire le coperture se ci sono state a che livello cioè beccano i preti pedofili lo condannano a volte questi preti vengono condannati dalla magistratura e poi vengono reintegrati dalla chiesa perché è successo anche questo anche in Liguria poche settimane fa e quindi non c'è spotlight non come nel film che cercavano di capire le strutture l'organizzazione se questo grado di coperture in che modo si poteva e si andava a estendere ma le dirò di più quando c'era il precedente pontefice benedetto sedicesimo c'era stato in tutto il mondo in Irlanda negli Stati Uniti queste grandi azioni della magistratura di risarcimento delle vittime in Italia questo non c'è stato in Italia c'è ancora la politica del trasferimento del prete pedofilo di 20 chilometri e perché si teme spotlight perché noi abbiamo il Vaticano a Roma altre domande? mamma mia quante dica dimmi perché adesso arriva la nostra come ti chiami? volontaria facciamo un applauso a Francesca che è una volontaria grazie nel 78 viene eletto Luciani ricordato come uno dei pontificati più brevi della storia con se non ho adorato 33 giorni addirittura si è detto tantissimo si è raccontato forse anche in certi casi troppo forse non si saprà mai la verità forse una mezza verità che non è una verità qual è il suo pensiero riguardo a questo se ci sono degli elementi che sostengono le differenti tesi che abbiamo ascoltato in questi in questi 30 anni come ti chiami? David eh? David David allora guarda io dedico un capitolo sulla morte di Papa Luciani e parlo di omicidio morale di Papa Luciani noi giornalisti non possiamo andare per suggestioni quindi o ci sono degli elementi o non ci sono su Papa Luciani non ci sono elementi indiziari che fanno pensare a un omicidio se non elementi di contesto e cioè che è un pontificato che è durato pochissimo e che lui voleva ricambiare la classe dirigente del Vaticano voleva mandare via il Cardinal Villò che era il segretario di Stato voleva allontanare pensa all'epoca anche quel debonis che voi avete letto nelle contabili bancarie già all'epoca si sapeva come si stava costruendo sto inghippo qua io parlo di omicidio morale perché ritengo che lui sia morto di infarto e che questo infarto sia stato cagionato dalle cose drammatiche che lui ha scoperto in quel periodo nel libro narro anche di un incontro quando Albino Luciani era ancora patriarca a Venezia e incontrò a Marcini che fu un incontro molto drammatico che poi troverete nel senso che penso ripeto che non penso che ci siano dei responsabili morali quantomeno della morte però su questo mistero molti hanno speculato per vantare dei crediti o per assumere delle posizioni di potere all'interno del Vaticano di certo oggi Papa Francesco è il primo Papa che vive a Santa Marta e la particolarità di Santa Marta rispetto all'appartamento pontificio è che non si sa quello che tu andrai a mangiare perché tu entri nella mese con un vassoio scegli come succede all'università nelle aziende cosa mangiare e nessuno lo può prevedere è chiaro la vita ci siamo capiti ci sono altre domande prego si adesso arriva tu come ti chiami Arianna qui siamo abbiamo un livello di aiuto vero che bello quando ci saranno a portare i microfoni gli uomini non le donne scusate va bene i quattro libri che tu hai scritto nascono da tua curiosità e da tua capacità investigativa ma anche da fonti che tu proteggi che ti hanno dato dei documenti dello IOR quindi qualcosa sta cambiando cioè sei testimone di un contropotere positivo che si sta muovendo dentro la chiesa rispetto a questo potere monolitico che dura da decenni la tua domanda è una domanda alla quale io non so rispondere perché se devo rispondere col cuore ti direi di sì ti direi sì se vogliamo essere ottimisti direi sì è vero ci sono delle persone che mi aiutano che mi hanno aiutato persone per bene che è un bel aggettivo che dobbiamo imparare a riutilizzare noi italiani per bene una persona per bene bello però quante sono e che forza hanno rispetto ai meccanismi e io questo non te lo so dire sicuramente c'è c'è una grande sofferenza all'interno del Vaticano di queste persone che vivono o lavorano e si trovano si trovano la propria fede violata da questi delinquenti ecco farti un rapporto di forza non te lo so dire però ma è anche relativo perché perché non è perché se volete sapere come la io credo che questa storia che il non è un problema di sapere come finirà questa storia questa storia si sa già come finirà io sono convinto che il bene andrà a trionfare per essere sintetici il problema non è come finirà questa storia il problema è quando finirà questa storia quanto tempo ci impiegheremo a rioccupare le nostre posizioni quanto tempo anni decenni secoli e poi c'è un'altra domanda e questo tempo tu dici boh speriamo breve no? l'uomo della strada tutti noi diciamo speriamo che facciamo ecco che ciò accada in fretta però c'è un altro c'è un altro problema che questa è sempre valutazione personale che questo tempo non è infinito cioè io credo che per la chiesa sia ci sia un conto alla rovescia che ci sia un declino perché come ho detto prima diminuiscono le offerte diminuiscono i fedeli diminuiscono le vocazioni non credo che noi possiamo ritenere che ci sia un tempo infinito per questo è arrivato un papa per la prima volta gesuita che si chiama Francesco che è fortemente atipico rispetto ai suoi predecessori tra Ratzinger e Bergoglio c'è un salto direi antropologico che predica una chiesa povera il problema è che io non voglio dire però penso che io non so se la chiesa deve essere povera perché lì c'è poi un problema di evangelizzazione ma credo che il problema per come lo vedo io credo che debba essere trasparente perché se uno dà un'offerta e noi siamo per esempio un popolo un paese un popolo cattolico generoso ci sono noi abbiamo 4 milioni di volontari in Italia noi siamo un popolo buono poi litighiamo anche però un numero così per esempio di volontari nei paesi europei così alto non è diffuso non è facile e allora dall'altra parte però il cambiamento è lento il cambiamento lì dentro è lento vi faccio solo un piccolissimo esempio premesso che io poi non troverete mai una parola contro la chiesa nei miei libri perché non è questa la mia posizione vi faccio e ve lo dico perché a differenza di altri giornalisti che magari prendono di mira qualcuno prendono di mira scrivono sempre sono monotematici perché hanno magari anche una posizione personale vi faccio un esempio poi chiudiamo il papa dei poveri abbiamo detto quando il papa è arrivato parlo di Francesco ha chiesto di sapere come venivano spesi i soldi dell'obolo di San Pietro che viene raccolto un giorno all'anno in tutto il mondo in tutte le chiese proprio per la beneficenza diretta del santo padre e quindi ha detto voglio sapere come vengono spesi questi soldi che vengono raccolti a mio nome allora aveva i suoi uomini di fiducia che ha mandato in segreteria di Stato ha detto potete informarvi e qui siamo nel Kafka perché entriamo nel nel mondo indecifrabile del Vaticano perché la segreteria di Stato non voleva dare questi questi dati nasce uno scambio di mail a un certo punto gli uomini di Francesco vanno in segreteria di Stato e qui c'è una situazione surreale perché vanno in segreteria di Stato e dico scusate ci manda il Pava ci potete dare questi dati e sentite la risposta non se la sto inventando la risposta è no non ve li possiamo dare perché non ve li possiamo dare per ordini superiori allora questi dicono scusate per ordini superiori ma noi noi ci manda il Papa cioè non è che sopra il Papa c'è un ci sono centinaia di persone ordini superiori di che poi arrivano i dati glieli danno perché interviene Bergoglio e lì capiamo il perché di questo segreto segreto che qui no c'è sempre il segreto il segreto su questi dati era presto detto perché di 10 euro che entrano in Vaticano entravano in Vaticano per l'obolo di San Pietro 6 euro andavano non per i poveri ma andavano a risenare i conti in rosso della Curia Romana ma ci credo perché se tu dai le case che ricevi in eredità le dai non le metti a reddito ma le dai a canone zero agli amici degli amici e poi devi pagare le risotturazioni devi pagare i lavori e quindi vai in rosso se una penna la paghi il doppio di quanto la paga la cortoleria sotto casa mia a Milano poi tutto aumenta se signora mia che lei che attenta se il presepe e l'albero di di Natale costava 400.000 euro all'anno vuol dire che ci mangia non una persona ma generazioni sei euro ne avanzano quattro dell'obolo di San Pietro di queste quattro due dicevano beh in effetti può essere può essere che noi dobbiamo fare delle opere di bene aiutare i poveri può essere può capitare che dobbiamo fare degli interventi allora due euro di queste dieci mettiamole su un conto corrente non usiamole facciamo riserva e hanno fatto una riserva che siamo arrivati a 400 milioni di euro sul conto corrente dell'obolo di San Pietro avanzavano due euro che in effetti andavano ai poveri quindi di 10 euro due andavano ai poveri questo lo scrissi nel 2015 perché si riferiva al 2013 del 2014 questi dati poi mi hanno detto ah Nuzzi adesso è tutto cambiato adesso non sono più due euro sono cinque che vanno ai poveri le altre cinque sempre lo stesso però ci faccio ah che bello e dove è scritto fatemi vedere no i bilanci sono segreti ancora poi mi hanno chiamato e mi hanno detto Nuzzi è tutto cambiato guardate che dove vi sto raccontando le bugie Nuzzi è tutto cambiato faccio così adesso il Vaticano è l'epoca di internet il Vaticano ha fatto un sito solo sull'obolo di San Pietro oh finalmente ho detto che bello uno va e vede come vengono investiti i denari no? allora sono andato lì pensavo di vedere diagrammi cifre somme e tutto ho trovato solo una cifra una sola ho trovato solo un numero Liban per fare i versamenti basta grazie allora io vi ringrazio devo firmare i libri? se voglio vado al banchetto in una segreta vaticana mi mettete al gabbio va bene allora se volete prendere il libro e la dedica io sono in questo gabbiotto qui gabbiotto appunto grazie ancora grazie 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 a tutti